Nell'aula del Tribunale di Pesero è arrivato un caso più unico che raro sul panorama giuridico italiano. È stato infatti accolto il ricorso di un ultra cinquantenne pesarese guarito dal covid ma riluttante a sottoporsi al vaccino al momento di rientrare a svolgere i suoi oneri professionali e lavorativi. È scattato il ricorso davanti al giudice che ha accolto la richiesta di perizia e consulenza tecnica per approfondire e verificare i contenuti del vaccino mRNA su un soggetto guarito dall'infezione. Un caso in sede civile che è seguito dall'avvocato pesarese Nicoletta Morante. Il mio cliente è un ultra cinquantenne libero professionista e è anche abilitato all'insegnamento oltretutto cosa che non ha potuto fare negli ultimi due anni e si è trovato impossibilitato a svolgere normalmente la propria attività. Da qui l'intenzione di chiedere un accertamento tecnico preventivo al tribunale di Pesaro sui dubbi che questa persona aveva. La prima cosa era l'obbligatorietà del vaccino pur essendo egli un guarito. La prima cosa era chiedere agli esperti se l'obbligo vaccinale per i guariti sia effettivamente una buona pratica medica. La seconda era basata sulle ricerche che aveva fatto questo cliente circa degli eccipienti ad uso non umano utilizzati nei vaccini questi sieri e poi ci si è chiesti anche se effettivamente sulla base di una documentazione che avevamo già e di una pubblicazione che ha fatto per questa causa il dottor Ansovini. Effettivamente il funzionamento dell'mrna messaggero quindi si sta parlando solo ed esclusivamente di vaccini amrna sia possa essere dannoso per la salute o enzimi contenuti all'interno di questi sieri possano essere parimenti pericolosi per la salute. Da qui la richiesta di accertamento e non dimentichiamo che tra i vari quesiti c'è anche quello un po' particolare sul consenso informato. Consenso informato che l'azienda sanitaria locale quindi quella l'asur unica marche chiede anche agli obbligati. Sappiamo che il consenso informato solitamente attiene a un contratto e quindi fissa le condizioni del contratto e quindi parlare di consenso informato all'interno di una fattispecie dove vi è obbligo è un po' un controsenso. Anche su questo abbiamo chiesto l'UMI al CTU e poi li chiederemo nella causa di merito logicamente estendo anche questioni giuridiche al giudice e vorremmo analizzare anche dettagliatamente il modulo di consenso informato che si sottopone anche agli obbligati. Ora si aspettano gli accertamenti tecnici che partiranno a fine settembre. Se il consulente nominato dal giudice vorrà anche ampliare la ricerca, le analisi che vorrà fare, tutto quello che vorrà fare noi lo faremo in contraddittorio con l'asur e siamo anche molto contenti del contraddittorio perché pensiamo sempre che la realtà e la verità debbano essere accertate sempre con una buona dialettica e quindi sono importanti anche le controparti.